Musica Benissimo, allora benvenuti siamo qui sulla beta grid di Second Life Addity e vediamo in questo video come applicare con Blender su una mesh più materiali spezzando i vari vertici in vari tronconi che possono contenere texture ad alta risoluzione, questo qui è un risultato ottenuto, un cubo dove ho fondamentalmente fatto due facce due materiali, per capire che sono due facce lo si può ottenere ad esempio con Firestone c'è un preciso comando ctrl-alt-shift-t in cui selezionando un oggetto una faccia posso fare ctrl-alt-shift-t e vedete che mi fa vedere le facce di quell'oggetto, quindi mi sta dicendo che c'ho una faccia 1, una faccia 0 e sulla faccia 0 ho messo questo seme, questa texture che è una texture 256 per 256 e sull'altro ho messo una texture 128 per 512 il vantaggio di fare multi texture, cioè multi materiali, multi facce su un oggetto mesh è che invece di fare una uvmap che prende un'immagine e la sperde, cioè quindi la scompone un'immagine dicendo questo pezzo in alto a sinistra vale in un posto quest'altro pezzo in basso a destra vale in un altro eccetera questo è il significato dell'uvmap il che vuol dire che scaricando un'immagine a 1024 devo usare una risoluzione inferiore per ogni singolo frammento della mesh usando invece più facce posso ottenere la massima risoluzione possibile in second life ricordo che le texture di massima risoluzione second life sono 1024x1024 in alcune situazioni è conveniente è opportuno avere più di un'immagine quindi per avere una risoluzione più alta fate attenzione a non esagerare quindi usare sempre la risoluzione minima per ottenere certi effetti perché avere una mesh o un oggetto che abbia delle texture con tantissime immagini a 1024x1024 crea lag fondamentalmente ed è una cosa sconsigliatissima però visto che mi hanno chiesto molti come mettere più materiali ricordiamo che il limite è 8 materiali su una mesh e questa è una procedura che non è banale ho deciso di fare questo piccolo video associato al corso che stiamo tenendo adesso su Solaris Island il giovedì alle 9.30 allora andiamo in qui siamo su su Blender Blender 266A cosa facciamo prendiamo dunque innanzitutto facciamo ctrl N ripartiamo dal capo abilitiamo se necessario sul display il no facciamo dalla delle opzioni l'ho appena installata questo è un 266A versione quindi delle user preferences magari vi dico il trucchetto per abilitare le nuove region overlay che sono questa possibilità qua che ho fatto vedere al corso in cui si vedono le barre laterali che sono semitrasparenti non intrusive e poi soprattutto sugli addons questo lo faccio più che altro per il tutorial abilito lo screen quindi 3D View Screencast Keys questo dopodiché faccio Save User Settings un'altra delle novità di Blender nuovo è che salvando gli user settings si salvano solo gli user settings e non la scena corrente questo l'ho spiegato anche a lezione una volta abilitato a questa opzione dovrei trovarmi qua con la possibilità di fare lo Start Display eccolo qua e lo Start Display fa vedere vedete i tasti premuti quindi a questo punto se faccio A eccetera vedete che qui compare in questa zona compare i tasti premuti allora siamo partiti da uno schema vuoto che è questo dove abbiamo il nostro cubetto allora procediamo al workflow usuale in cui aggiungiamo un materiale e di conseguenza una texture una UV Map e così via ricordiamo che per fare la texturizzazione di una mesh occorre avere almeno una UV Map quindi noi cosa facciamo procediamo su quindi introduciamo all'inizio una UV Map le UV Map ricordiamo che le possiamo trovarle tutte qua sulle Object Data dove c'è questo triangolino rovesciato le UV Maps sono tutte qua dove c'è scritto UV Maps e noi ne aggiungiamo una allora in questo caso basta una anche se userò più materiale perché avranno la stessa UV Map se necessario posso intornurne più di una l'UV Map quella di default che lui crea normalmente di default dovrebbe già andar bene perché è già un UV Map che ha fatto un default che copre tutte le facce in maniera tale che se io metto una texture sopra l'UV Map si vede esattamente su tutta la faccia del cubo in questo caso però in realtà ricordatevi che le UV Map andrebbero tutte tarate e viste attraverso l'apposita visuale adesso per semplicità di questo video non apro la finestrina delle UV Map perché do per scontato che questa UV Map possa andare bene allora andiamo sul materiale e vediamo che lui ha già costruito un materiale e ha agganciato il materiale c'è già una texture e questa texture però non va bene perché dobbiamo agganciarla a una texture diciamo non calcolata perché vedete che di default la texture principale del cubo è una generata ma a noi interessa avere una image or movie la image or movie che associamo a questo signore la scegliamo dal nostro disco andiamo su documents qua vi faccio così scegliamo per esempio questo simbolo che era negli ori che avete visto prima ok è uscito il nostro simboletto dopodiché andiamo sotto dove dice mapping e projection quindi generated facciamo UV allora quando abbiamo selezionato UV dobbiamo scegliere l'UVMAP l'UVMAP scegliamo quella che abbiamo creato di default prima qualcuno mi ha detto che anche se non si genera UVMAP cioè se non si sceglie nessuna UVMAP funziona apparentemente in Blender ma poi dopo il porting su Second Life non dà risultati decenti quindi usate sempre questo workflow quindi usare sempre un UVMAP sia pure costruita di default come in questo caso una volta associato quindi avendo creato l'UVMAP avendo assegnato come ho detto il materiale e avendo assegnato la texture qua in questo modo per vedere se la texture si adagia bene e se l'UVMAP va bene bisogna fare un F12 facendo un F12 si fa una foto del nostro cubo e quindi si vede che la nostra immagine è abbastanza aderente alternativamente ammesso che funziona durante il corso l'ho provato e non funzionava sotto il display qua quindi se noi andiamo dove c'è scritto display c'è la possibilità qua di vedere texture solid però forse ecco GLSL no multitexture niente neanche qua funziona quindi in teoria facendo questa operazione qua si sarebbe dovuto vedere la texture già applicata non so se sia la 266A che ha questo questo problemuccio però non riusciamo a vederla direttamente quindi la soluzione più efficace è appunto l'F12 fate l'F12 e vedete che si è applicata in tutte le facce se volete essere sicuri che si è applicato anche alla faccia nascosta dovete eventualmente modificare andare qua in object mode quindi prendere la luce che c'è qua la duplicate in maniera tale da prenderlo anche dal davanti che illumini anche un pochino davanti in modo tale che con F12 vedete che si vede che sta coprendo anche la faccia che prima era in ombra ora questo è il workflow normale per associare un materiale a un cubo ad esempio come in questo caso però l'oggetto di questo incontro di questo video è quello di farvi vedere come associare un altro un altro materiale quindi andiamo selezioniamo col tasto destro in object mode va bene però in realtà è meglio andare in edit mode perché dobbiamo poi assegnare singole facce a materiali diversi che questo è il nostro obiettivo in realtà adesso faremo un esempio molto semplice nella realtà più normale che avete voi non avete dei cubi avete dei materiali complessi ma il concetto è esattamente identico cioè quindi sia che sia un volto che sia un cubo come questo cioè si fa tutto nello stesso modo andiamo allora nella nostra finestra di materiali abbiamo il materiale questo che abbiamo già fatto e dobbiamo creare un nuovo slot per associarsi al materiale quindi facciamo più compare uno slot nuovo ma non c'è il materiale c'è solo un posto diciamo e poi facciamo new e associamo il materiale nuovo questo materiale 001 qui dovremmo fare tutto il giro di prima che ho fatto vedere in realtà lezione ma ho visto qualcuno aveva proposto dei sistemi diciamo più semplici che consistevano nel ricopiare un materiale su un altro in modo tale da conservare il fatto che ci avesse un ovimap che fosse image eccetera che sono tutto quello workflow che ho fatto vedere che può essere un problematico noioso da fare per farlo andiamo qua clicchiamo facciamo copy material e poi andiamo sul secondo materiale che abbiamo creato e gli facciamo un past material vedete che a questo punto il materiale nuovo che abbiamo creato è una copia esatta dell'altro materiale con tutte le informazioni corrette se andiamo su questo secondo materiale vediamo che ha una texture associata e che è associata ancora a questa texture che si chiama text ora ho perso un po' di tempo prima facendo delle prove su questo video perché se noi cambiassimo questo te lo faccio vedere anche voi perché se noi cambiassimo quindi caricassimo un altro immagine diversa quindi andiamo qua e caricassimo non so questi qui i bastoni cambia la text che però come vedete qui c'è un numerello 2 dice che è condiviso da due oggetti quindi in realtà cosa vuol dire che io sto cambiando anche il materiale 1 vedete quindi in realtà cambiando la texture di un materiale si sta cambiando la texture di un altro materiale voi direte è una cretinata perché è così è brutto eccetera no in realtà un po' è anche voluto questo nel senso che si dà la possibilità di condividere la stessa texture su più materiali nel tentativo di risparmiare spazio in memoria ma allora cosa facciamo dobbiamo essere sicuri che la texture del secondo materiale sia unica e quindi per fare questo devo cliccare dove è scritto 2 vedete quindi è diventata text 001 e questa text 001 la posso associare liberamente a un'altra immagine quindi posso fare questo punto qui e prendere l'altra immagine che ho fatto che sono gli ori questo simbolo degli ori quindi a questo punto se vado sull'altro dunque allora riproviamo dunque questo qui erano i bastoni era text ah si sono i bastoni effettivamente mentre invece questo qui sono gli ori eh mi confondevo un attimo che sembravano simili però questo qui è il bastone se vogliamo anche esserne sicuri possiamo provare anche a vedere la preview che ci fa vedere questa che ci fa vedere quindi un pezzo del 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 nostro oggetto quindi questo qui visto come applicato vabbè si vede una luce comunque siamo più o meno lì allora però abbiamo messo due materiali ma se noi facciamo la foto del nostro oggetto F2 ci vedete che c'è il primo materiale il materiale principale questo perché quando viene creato l'oggetto viene assegnato tutte le facce al primo materiale che è stato creato e nessuna faccia è associata al secondo materiale quindi dobbiamo in sintesi andare su in edit mode dove siamo adesso selezioniamo la selezione per faccia andiamo sulla faccia che vogliamo di cui vogliamo cambiare la destinazione e poi l'associiamo come cliccando sul secondo materiale e facendo assign allora facendo in questo modo cosa succede adesso facciamo il deselect della faccia assegnata se noi andiamo sul primo materiale e facciamo select vedete che seleziona tutto tranne quella faccia nuova adesso selezioniamo se andiamo sul materiale secondo materiale cosa facciamo facciamo select e seleziona solo quella faccia ora nel momento in cui vi è fatto questa assegnazione tutte queste facce verranno plottate verranno renderizzate con la prima materiale che era quello col bastone e questa faccia qua verrà renderizzata invece con il segno con la seconda texture per esserne sicuri facciamo F12 e vedete che non vi è ingannato abbiamo il simbolo di bastoni qua sopra e il simbolo degli ori qua sotto analogamente per ottenere altri materiali si può andare in maniera progressiva quindi se vogliamo avere tre materiali qui basta aggiungere un altro slot qui possiamo gli creiamo il materiale corrispondente questo materiale lo copiamo anche questo copy material gli assegniamo anche questo terzo materiale ci accertiamo che la texture corrispondente vedete questa qua che è doppia sia univoca quindi è diventato text002 in questo modo risparmiamo di fare tutto il giro della UV map eccetera sotto dobbiamo solo cambiare eventualmente la texture e gli mettiamo un ulteriore una terza texture che prendiamo ad esempio le spade ok e supponiamo di voler mettere le spade dove sulla faccia in alto quindi come replichiamo il procedimento di prima quindi andiamo qui con il materiale 0.2 selezioniamo la faccia in alto e siamo sicuri di essere sul materiale 0.2 facciamo assign e quindi ho segnato la faccia in alto a quella cosa tra l'altro notate che se io clicco qua vedete che mi fa vedere automaticamente questo quale materiale è segnato oppure qua vedete che mi sposta quindi se guardate qua mentre io cambio vedete che si sposta il materiale in funzione quindi in realtà io so ogni faccia guardando là a che materiale è associato se faccio l'f12 rendering vedete che ho le tre le tre texture e i tre materiali associati ora viene la parte diciamo interessante per quello che ci interessa allora tutte queste texture stanno sotto un folder che nel mio caso i documenti quando vado a selezionare il mio oggetto in object mode e faccio file export collada ok mi accerto di avere selection only come minimo e dopodiché esporto in documenti dove c'erano tutte queste cose esporto questo cubo che chiamo cubo tre materiali punto dai se lo metto esattamente sotto lo stesso folder in cui ci sono le texture in teoria non sempre funziona comunque molto spesso si facilita il compito di upload nel senso che in alcune situazioni è possibile caricare questo cubo con tutte le texture già preannesse anche se io di solito preferisco poi scaricarle tutte una per ciascuna le texture ma adesso andiamo sul nostro qui ecco vedete facciamo un avatar quindi su file lo abbiamo qua facciamo l'upload del mesh model quindi siamo su qua quindi cubo tre materiali punto dai che ho appena fatto ecco lo vedete questo è il cubo il cubo lo chiamiamo cubo tre materiali ok qui vedete che il medium il low e il lowest sono brutti quindi prendiamo i load avendo pochi vertici possiamo permetterci di vederlo bene a qualunque dimensione se avesse preso le texture cosa che ho visto prima che non lo fa lo dovremmo vedere anche qua in realtà noi potremmo anche vedere se allora qui volendo si potrebbe dire include textures se prendere texture mentre sta facendo il calcolo quando si fa calculate weight and fees dovrebbe dire no non è presa le texture vabbè niente a volte quando c'ha voglia lo fa e quando non c'ha voglia non lo fa allora calculate weight and fees ci fa vedere che questo cubo costa 11 e pesa mezzo print fondamentalmente quindi procediamo all'upload senza altro di questo oggetto eccolo allora l'abbiamo caricato abbiamo cubo 3 materiale lo rezziamo questo oggetto eccolo qua a questo punto se noi selezioniamo questo oggetto e facciamo ctrl alt shift t vedete che ci sta facendo vedere che c'ha una sola texture opaca sulle facce 0 1 2 quindi questo qui è un cubo con 3 facce cioè con 3 materiali laddove questo altro cubo ctrl alt shift t invece vedete che c'ha soltanto 2 facce la faccia 1 e la faccia 0 e con 2 e con 2 e con queste proprietà qua allora qui essendo che ha queste facce voi volendo magari rendo disponibile anche un piccolo script che permette di vedere le facce anche visivamente sul quindi prendiamo facce ah no ce l'avevo dentro questo cubo quindi identify faces questo qua ok quindi ecco qua identify faces lo sposto questo qui è uno script che praticamente vedete che mi permette di vedere le facce quindi vedete che abbiamo 1 2 3 vedete che la faccia 1 in realtà è presente su più di 1 ah tra l'altro una cosa interessante potrebbe essere effettivamente quella di vedere le facce di un cubo normale quindi se noi creiamo un cubo normale e ci mettiamo lo stesso script che abbiamo visto prima identify faces ecco vedete che un cubo normale in realtà ha 6 facce e non come questi cubi mesh il cubo mesh normale che fareste se esportaste un cubo avrebbe una sola faccia invece questi cubi qua vedete che sono questi mesh sono particolari perché hanno 3 facce la 1 viene ripetuta e anche sotto se guardate anche sotto abbiamo una faccia che è sempre la 1 mentre invece qua la faccia di sotto è la 6 allora niente qui per metterci le vari semi è sufficiente prendere tra i recent mettiamo alcuni dei text che abbiamo messo quindi i semi di bastoni lo mettiamo qua i semi di nari lo mettiamo qua e analogamente metteremo un altro o eventualmente un altro texture di là adesso purtroppo lo script che abbiamo messo di base cambiava le proporzioni delle texture il che oltre tutto è anche interessante di suo per rimettere le proporzioni apposta andate sulla texture vedete che questa è la texture originale per mettere tutte le varie facce e qui ci mettiamo repeats for face 1 ah no questo lo sta facendo di là non era forse esattamente quello che volevamo lo dobbiamo fare qua quindi su questo oggetto che è quello che vogliamo texturizzare questo solo perché gli ho messo quello scriptino di prima in realtà poi c'ho un altro script che magari aggiungo sul video che non fa questo difetto un po' meglio fa vedere le facce senza senza cambiare senza alterare questa questa informazione quindi qua facciamo 1 1 ok e poi dobbiamo ancora mettere 0 0 e 0 e vedete che abbiamo ottenuto un'altra texturizzazione interessante di un cubo in cui abbiamo cambiato due facce e un'altra faccia quella lì è rimasta con la textura originale quella dei numeri allora questo è super giù il workflow per fare la texturizzazione con più materiali unica cosa che non ho fatto vedere con chiarezza è un eventuale UV map che non sia quella di default per il cubo ma questa UV map eventualmente potremmo fare potrei fare un altro video per farvi vedere la texturizzazione di un oggetto meno banale del cubo dove magari vado un pochino più veloce per farvi vedere la texturizzazione non so tipo di un lampione o di qualche altra cosa eventualmente state sintonizzati al prossimo piccolo corso piccolo tutorial su YouTube buonasera salve